La ginnastica ti dice no, sempre. Ti prende in giro in continuazione e ti dice che sei una povera scema, che sei una pazza. Se ti piace correre a tutta velocità verso un oggetto immobile, il volteggio fa per te. Se ti piace vedere pezzi di pelle che ti si staccano dalle mani, sei nata per le parallele. Perché una cosa sola è più divertente che avere una vescica, averne due. Quanto è sexy. E il corpo libero. Scherziamo, chi non sogna di pavoneggiarsi con un body che ti si infila fra le chiappe mentre esegui coreografie senza senso? È bellissimo. Grazie a tutti.